La Sicilia sceglie l'autonomia e fugge dall'Election Day. L'Aggiunta Schifani ha confermato le date del 28 e 29 maggio per le elezioni amministrative, ribadendo la scelta operata lo scorso 2 febbraio e rigettando l'allineamento al 14 e 15 maggio scelti dal Governo nazionale. Urni aperte nell'isola domenica 28 dalle 7 alle 23 e lunedì 29 dalle 7 alle 15, con eventuale turno di ballottaggio per i comuni con oltre 15.000 abitanti, previsto per l'11 e il 12 giugno. In Sicilia sarà una consultazione importante, poiché si presenteranno alle urne quattro capoluoghi di provincia. Attenzione puntata, tutta su Catania con 296.000 abitanti e il comune maggiore. Gli altri capoluoghi di provincia e naste di partenza sono Ragusa, Siracusa e Trapani. In provincia di Catania sono 19 le città al voto, insieme al copoluogo le città superiori ai 15.000 abitanti, a Cireale, Mascaluccia, Belpasso, Gravina di Catania, Biancavilla, C. Sant'Antonio e Riposto. Sotto i 15.000 abitanti Camporotonde e Tenneo, Casteldiudi, Camaletto, Mineo, Piedimonte e Tenneo, San Cono, San Gregorio di Catania, Sant'Alfio, Santa Venerina, Valverde e Via Grande. L'inserimento di eventuali nuovi comuni nel caso di dimissioni dei sindaci potrà avvenire entro la data di indizione dei comizi elettorali, prevista con decreto dell'assessore alle autonomie locali tra il sessantesimo 29 marzo e il cinquantesimo 3 aprile, giorno antecedente le votazioni.